I VELOX di Piadena e Drizona sono fuori legge? No, non è ancora detta l'ultima parola. Ecco perché arriva l'invito alla cautela, anche perché le indagini sono ancora in corso. Come noto tutto parte dalla provincia di Cosenza dove sono stati sequestrati alcuni VELOX che non avrebbero passato l'omologazione, avrebbero dato problemi. Da qui la decisione di sospendere la loro attività, sempre però ricordando che nel frattempo questi VELOX sono attivi da anni, almeno quelli tra Piadena e Drizona, Isola Dovarese, Pessina, Cremonesi e il territorio della polizia locale AC-12. Quello che si sa è che diverse persone che lì avevano preso la multa hanno chiesto indietro i propri soldi o meglio hanno chiesto informazioni in merito all'eventuale rimborso o al ricorso. Qui va fatta una prima precisazione, un primo distinguo, proprio perché l'indagine è in corso. Non è consigliato in questo momento ottenere rimborsi, mentre possono muoversi coloro che la contravvenzione ancora non l'hanno pagata. In estrema sintesi si possono fare ricorsi ma non avere rimborsi per chi ha già pagato. Il motivo? Già in passato la stessa ditta che fornisce VELOX in tutta Italia e anche nel territorio piaderese aveva subito gli stessi controlli e il sequestro di alcune macchine altrove. Dopo un mese però era stato subito riordinato il dissequestro e dunque la questione si era chiusa in una bolla di sapone. Non è detto che pure stavolta vada così ma nel dubbio il consiglio è di aspettare. Nel frattempo va ricordato che da Cremona la prefettura ha sempre considerato regolarmente omologati quei VELOX, dunque da questo punto di vista la polizia locale AC12 professa tranquillità. Va anche detto che nel caso in cui l'inchiesta certifichi invece irregolarità sarà comunque complicato avere indietro i soldi delle contravvenzioni ed è il motivo per cui il danno era reale per il Comune o per gli enti che hanno ottenuto questi soldi potrebbe essere scongiurato. Da un lato infatti l'eventuale percorso giudiziario in tre diversi gradi potrebbe allungare i tempi di 6-7 anni e quindi far passare il reato in prescrizione. Dall'altro i Comuni e gli enti avrebbero il tempo in questo modo di preparare una sorta di fondo di emergenza per fare fronte ad eventuali rimborsi da pagare.